È stato annunciato nei giorni scorsi un punto d'arrivo per i lavori sull'interquartieri e siamo venuti qua nel quartiere di Muraglia perché ancora comunque mancano diverse settimane e siamo venuti a ascoltare il parere dei residenti e delle attività commerciali della zona. Sicuramente a livello lavorativo e commerciale ne abbiamo risentito tanto e speriamo che l'infrastruttura si completi il prima possibile e che poi comunque la gente riesca a ripraticare, a ripercorrere la strada del quartiere per rimettere in moto un po' il commercio. Capisci che quando una strada è proprio chiusa eviti il giro, poi magari sono le code in altre strade quindi uno già in ritardo evita di fermarsi nuovamente per un caffè, una colazione o una spesa qui da Tommy. Quindi stiamo a vedere. Spero che finiscano nelle date che ci hanno detto anche perché i lavori forse ci volevano e quindi prima ci lamentiamo che non li vogliamo e poi tanto i lavori vanno fatti. Si è presa la decisione che dovrebbe essere fatto questo interquartiere speriamo che poi una volta aperto sia buono anche per noi anche se noi stiamo in questo momento storico, stiamo veramente attraversando un periodo bruttissimo, veramente brutto. Per noi è una nota negativa perché anche quando hanno chiuso tempo fa hanno davvero recato dei danni danni proprio alle attività non solo noi ma della zona perché comunque anche se la gente poteva tranquillamente girare dalla nostra parte con i cartelli che avevano messo pensavano di non poter andare oltre e quindi non giravano neanche quindi qui c'era la desolazione e è stato veramente un grande colpo, un duro colpo per quanto riguarda la nostra attività e tutte le attività commerciali perché comunque le persone sono tentate ovviamente di andare dritto, di non girare verso di noi e quindi di non partecipare alla vita di questo quartiere a livello commerciale parlo. Le chiacchiere quotidiane con i clienti cosa dicono? Cosa vi dicono i clienti? Che non capiscono mai il senso di marzo, se si può passare, quando è aperta, quando è chiusa, quando si può ritornare però tutti hanno detto che comunque di non preoccuparsi, che la clientela fissa rimane però magari quel 10-20% in più del passaggio probabilmente si perde. Allora vediamo l'ora che la strada venga riaperta perché effettivamente ha creato notevoli disagi e speriamo comunque porti un flusso sempre maggiore di residenti più di Pesaro, Fanomo ma anche di altre zone per poter raggiungere il maggior numero di persone e dare un servizio migliore a chi vorrà venire in questa zona. Questo gruppo di negozianti che ci siamo un po' confrontati e ci piacerebbe appunto che diventasse un centro commerciale naturale all'aperto per dar valore appunto ai piccoli negozianti che insieme magari possono dare sempre un servizio migliore. Sarebbe bastato evitare proprio i mezzi pesanti secondo me per far vivere questo centro commerciale perché noi forniamo di tutto, completamente tutti. Speriamo che lasciano un passaggio per poter venire qui da noi e molto pubblicizzare soprattutto che qui è un piccolo centro commerciale. Ci auguriamo anche vivamente noi commercianti che inizino presto i lavori del nuovo ospedale che quello sarà e porterà un buon movimento per quello che riguarda sempre le attività commerciali del quartiere. Già stiamo vivendo una nuova realtà che è quella dell'università portata nei centri, nelle stanze del comune della circoscrizione e quindi speriamo bene che tutto si risolva al prima possibile.